Una persona è rimasta ferita, si tratta di una giovane ragazza e purtroppo le sue condizioni sono molto critiche. Il giorno del ricordo per la strage di Newtown si è trasformato in un'altra giornata di angoscia per l'America, l'ennesima. È passato esattamente un anno dal bagno di sangue nella scuola elementare del Connecticut in cui morirono 27 tra bambini insegnanti quando nei corridoi del liceo di St. Aniland alle porte di Denver si sentono degli spari. Scatta subito l'allarme, l'istituto viene evacuato, chi può riesce ad uscire ma in un attimo tutta la scuola piomba nel terrore. Anche perché per una crudele coincidenza del destino la high school dista solo 13 chilometri dal liceo di Columbine, teatro della più celebre delle stragi, quella del 90, ma anche una ventina di chilometri dal cinema di Aurora dove un folle vestito da Batman il 20 luglio 2012 trucidò sparando 12 persone e ne ferì una settantina. Sono spaventata a morte, dice questa madre, ci siamo spostati qui proprio poco prima di Columbine. Io invece ero in riunione, sono scappata via, mia figlia mi ha mandato un sms per dirmi che stava bene ma non so esattamente cosa sia successo. Questo in realtà nessuno lo sa come al solito. La polizia comunica solo che dentro la scuola è stato ritrovato il presunto attentatore, morto, apparentemente suicida, con un colpo alla testa. È uno studente che forse voleva vendicarsi di un insegnante di cui i suoi vicini sanno dire ben poco. Poi scatta come sempre l'allerta, per precauzione vengono isolati anche gli istituti pubblici di Aurora lì vicino e di nuovo riparte la polemica sulla facile vendita delle armi negli Stati Uniti. Ma sembra quasi un rituale, nemmeno Barack Obama è riuscito a vincere finora la sua battaglia contro le lobby delle armi, nemmeno sull'onda emotiva della strage di bambini a Newtown. E quasi certamente non saranno queste nuove vittime a far cambiare l'opinione a un paese che non vuole perdere la sua libertà assoluta di comprare un'arma, anche un fucile, mitragliatore, senza troppe restrizioni.